Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento della Rassegna Stampa di oggi venerdì 16 giugno e come sempre siamo in diretta alle 7.30 e naturalmente in replica fino alle 13.30 quindi salutiamo anche coloro che ci seguono in replica. Allora partiamo dal santo di oggi vediamolo subito con la grafica oggi è la beata Maria Teresa Scherer il sole sotto le 5.24 e tramonterà le 20.53 andiamo subito a vedere il tempo per la giornata di oggi venerdì cielo sereno poco nuvoloso con nel pomeriggio isolati rovescio temporali nelle zone appenniniche le temperature sono stazionarie nei minimi e lievi diminuzione invece nei valori massimi venti di brezza tese il mare sarà poco mosso per domani sabato 17 giugno ancora cielo sereno poco nuvoloso avremo delle precipitazioni soprattutto nelle ore centrali con brevi rovescio temporali solo nelle zone dell'appennino le temperature sono in diminuzione nei massimi e stazionario lieve aumento nei valori minimi venti di brezza tese da nord il mare sarà da poco mosso a mosso però in serata. La giornata di domenica si presenta con il cielo sereno su tutta la costa adriatica marchigiana con cielo sereno poco nuvoloso temperature in diminuzione venti da nord orientale il mare sarà mosso o poco mosso o molto mosso scusate e per quanto riguarda la prossima settimana avremo comunque tempo stabile. La notizia è arrivata ieri sera tardi non siamo riusciti a darvela nel telegiornale ma il resto del carlino è riuscito ieri in extremis pubblicare la notizia della morte di Giacomo Guidi ecco questa la fotografia del dello stilista Giacomo Guidi è successo ieri aveva 47 anni trovato morto è stato trovato morto sul divano dal padre Piero Guidi a fianco del corpo c'era una pistola appena usata inutili per lui i soccorsi era il primo genito ed aveva doti innate verso l'arte e il bello sue le fotografie straordinarie con Mohamed Ali era una persona molto timida Giacomo Guidi riservata scrive Roberto Damiani sul giornale di questa mattina l'addensarsi però di nuvolo nere sull'andamento dell'azienda familiare a causa della crisi lo stavano preoccupando ma al pari dei familiari che hanno imboccato la strada della ristrutturazione aziendale Giacomo Guidi era sposato con Simona senza figli ed era l'anima artistica appunto dell'azienda tutti i particolari nel pezzo sul resto del Carlino Marina dei Cesari andiamo sulla pagina di Fano ai conti in rosso Cazziolla dice stiamo cercando investitori crisi della nautica la società va ricapitalizzata ci sono comunque delle prospettive possiamo anche costruire mille metri quadrati per allargare la sfera dei servizi dice Alberto Cazziolla che è l'anima appunto di Marina dei Cesari il porto turistico di Fano e rimanendo in tema di Porto c'è un'iniziativa presentata ieri da Patrizio Roversi velista per caso ma in questo caso è velista per solidarietà c'è ancora il fango lui chiede al porto 20 giovani che sono affetti dalla sindrome di Williams gireranno l'Italia approdando nella città della fortuna la partenza è prevista per il 22 settembre prossimo da Genova dal porto di Genova ma servono degli sponsor Rodolfo e Rodolfo cantò i migliori anni l'addio ieri nella parrocchia di Sant'Orso gremita per i funerali del dipendente della Profilglas in chiesa risuona la voce di Cangiotti per gli amici Dodo poi il volo dei palloncini bianchi mi ricordo di te ha detto l'amico che canti il cielo del tuo Renato perché lo ricordiamo Dodo Rodolfo Cangiotti appunto era un imitatore straordinario di Renato Zero e in tanti lo ricordano mentre appunto nei suoi spettacoli imita Renato Zero e lì dice ancora l'amico è lì nel cielo, in cielo, che ti cercherò d'ora in poi e questa è la pagina del resto del Carlino ancora da Barchi c'è una donna, una donna della quale non si sa più nulla 48 anni, alta 1,70 m corporatura robusta, capelli castani molto lunghi occhiali e montatura rettangolare nera probabilmente con indosso pantaloni e maglietta di colore chiaro si chiama Maria Antonietta Letizi è una donna di Barchi di cui, come dicevo, non si hanno più notizie da martedì pomeriggio a dare l'allarme sulla sua assenza è stato lo zio ottantenne la stanno cercando forse la cercano anche con gli aerei l'ipotesi è che si sia allontanata volontariamente invece la pessima cartolina che vedete in questa fotografia è ciò che rimane dell'ex fornace di Orciano ci sono lavori fermi in quel posto da ormai diverso tempo restano solo le macerie i malumori in paese si cominciano a sentire sembra un bombardamento e c'è dunque l'appello al nuovo sindaco Sebastianelli a fare in modo che queste macerie vengano in qualche modo spostate a Urbino ieri c'è stata la visita del ministro degli esteri Alfano e il giornale racconta dell'assalto degli studenti al rettorato sono stati contestati sia Stocchi il rettore che il ministro respinti dalla polizia questi studenti hanno subito una perquisizione dunque ci sono stati momenti di tensione e qui vedete nelle fotografie alcuni istanti di questa visita con sotto appunto il ministro degli esteri Angelino Alfano cambiamo giornale andiamo sul Corriere Adriatico perché da Vallefoglia è arrivata la notizia che il rogo dell'altra notte alla barra Le Cento Vetrine di Morciola che tra l'altro ha causato provocato danni per oltre 30 mila euro è un incendio doloso qualcuno ha piccato le fiamme probabilmente ce l'aveva con i titolari il bar ovviamente è andato distrutto devastato paura al centro commerciale questo è il titolo del Corriere Adriatico la chiamata alla 115 dei pompieri è arrivata alle 2 di notte da un residente della zona svegliato da un botto ma non sono stati trovati inneschi così un angelo mi ha salvato donandomi il rene un rene è la storia di Miguel Gomez che è pesaresissimo scrive in questo articolo il giornalista del Corriere Adriatico però è padre di due bambine di 9 e 2 anni sposato con Carla ed è figlio di una famiglia colombiana che si è trasferita negli anni 70 e insomma potete immaginare come si può vivere con i problemi al rene quindi insomma per fortuna è arrivato per lui un angelo e quando parliamo di un angelo è qualcuno che dall'altra parte è morto è un giovane che è deceduto e che ha donato gli organi è arrivata questa telefonata questa telefonata inaspettata nella tarda serata di lunedì la telefonata diceva c'è un rene compatibile quindi domani alle 2 del pomeriggio il professor Carmelini le effettuerà il trapianto a Siena Gomez appunto è partito e qui lo vedete con il padre di fianco al letto sorridente con la maglietta del pesaro calcio ebbene adesso potrà dire di ricominciare a vivere ero destinato dice lui a vivere una vita con una macchina il trapianto invece è un miracolo lui racconta del suo donatore so che era giovane ringrazio la sua famiglia ora avrò una persona in più da custodire dentro di me la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico i migliori anni addio Dodo folla sgomente commossa tutta Sant'Orso e centinaia di colleghi della Profilglas al funerale di Rodolfo Cangioti l'operario di 49 anni l'ultima vittima di un infortunio sul lavoro alla Profilglas che ha creato una grande turbativa in tutte le maestranze ieri alle 3 del pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso a Fano c'è stato il funerale Tanti con la scritta Ciao Dodo e sul retro la scritta Migliori anni il titolo della canzone di Renato Zero l'amico Samuele legge una lettera che ricorda anche lo scrupolo di Rodolfo per la sicurezza escludendo la sua imperizia dunque nell'incidente all'uscita del feretro l'altoparlante diffonde la sua interpretazione del brano di Renato Zero e sotto Lorenzo Furlani fa un identikit di quella che è l'azienda la fabbrica di Paci che è in continua crescita secondo produttore pensate di alluminio in Europa e nel 2015 l'azienda ha conseguito un utile esercizio di quasi 6 milioni di euro in significativa crescita rispetto al 2014 il turismo così non va non c'è un programma la critica arriva da Progetto Fano che punta l'indice contro la giunta guidata da Massimo Seri i privati sono inascoltati fanno un esempio l'accenno è a quanto accaduto recentemente allo Sciale del Mar che è stato è stato chiuso messi sigilli un locale che richiamava sulla spiaggia centinaia e centinaia e centinaia di persone ma poi c'è anche il porto turistico per esempio ha detto Ilari è abbandonato a se stesso non c'è un evento programmato dall'amministrazione comunale che lo valorizzi solo la Colle Marathon si è ricordata di questa suggestiva location mentre nel mese di giugno la passeggiata dell'Isipo è stata chiusa sia la variante del parco l'altra pagina invece del Corriere Adriatico il vincolo posto su 32 ettari si completa con un voto unanime in Consiglio Comunale un lungo iter burocratico ma non mancano le critiche sotto invece sulla questione della trave sulla struttura sportiva alla trave l'assessore Caterina Delbianco ammette le critiche e dice andiamo avanti quali sono le critiche sulla mancata condivisione con i residenti della trave sul nuovo impianto quello che prima doveva essere un pallone presso statico poi in realtà dovrà essere una struttura fissa però l'assessore ammette che c'è stata si cosparge il capo di cenere dice ammettiamo l'errore su questo punto si ricomincia da zero e diciamo che insomma potevamo forse confrontarci un po' di più con i residenti della trave dalla valle del Cesano Antonio Sebastianelli il nuovo sindaco di terre roveresche acqua pubblica e riuso dei rifiuti Sebastianelli aderisce il neosindaco accoglie l'appello dei comitati contro le discariche e gli inceneritori un boato invece sveglia Pergola salta in aria il banco ma attunazione fulminia di tre ladri nella notte intorno alle 2.30 telecamere oscurate con dello spray nero via con 20.000 euro è successo ai danni della Banca Popolare di Bari che si trova a lungo via le Dante Alighieri nel paese di Pergola invece a Colli al Metauro c'è un po' l'esame di coscienza se vogliamo è un po' quello che è successo il rammarico di Michela Ubaldi che ha ottenuto il 33% dei voti alle scorse amministrative è stata sconfitta da Stefano Guzzi che lo ricordiamo è stato eletto con il 70% dei voti lei dice nella maggioranza però ci sono tante contraddizioni non siamo riusciti ammette fa un mea culpa a veicolare il nostro progetto per il territorio del risultato però dice sono contenta a bocce ferme sono contenta perché comunque ha ottenuto per la sua lista 2.142 voti pari al 33,7% e insomma avrà dei rappresentanti in consiglio comunale dunque farà opposizione le ultime due pagine allora da Pesaro evitate l'emergenza idrica il presidente della provincia richiama i comuni e chiede il presidente del lato subito ordinanze per non far sprecare l'acqua le limitazioni sono quelle degli anni scorsi ormai si conoscono piuttosto bene comunque con l'entrata in vigore di queste ordinanze che cosa succede? che bisognerà limitare il prelievo il consumo di acqua del pubblico acquedotto dunque non si potranno irrigare o annaffiare gli orti i giardini e i prati quando uno vuole ma ci saranno dei giorni ben precisi indicati degli orari ben precisi non si potranno lavare piazzali cortili e quant'altro il lavaggio privato di veicoli a motore quindi bisognerà portarli a lavare con le monetine riempimento di piscine fontanne ornamentali vasche da giardino tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale quello sì tutto il resto bisognerà attenersi a quelle che saranno le ordinanze che probabilmente verranno firmate nei prossimi giorni da Senigallia invece fuori le auto scatta l'isola pedonale parti in spiaggia all'ora dell'aperitivo le regole del divertimento consentite anche consentite agli stabilimenti dieci feste serali ma i bar a Senigallia dovranno chiudere alle nove di sera ci fermiamo qui noi ci rivediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia sistemeremo anche il monitor 338 49 68 250 invece è il numero di telefono per le vostre segnalazioni grazie per averci seguito a voi tutti gli auguri di una buona giornata grazie a tutti i nostri spettatori